Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. Prosegue il dominio dell'anticiclone all'interno del Mediterraneo e proseguirà anche nei prossimi giorni, come evidente da questa moviola previsionale, che ci mostra anche come le perturbazioni atlantiche prediligeranno i settori settentrionali dell'Europa, quindi lasceranno il Mediterraneo e tutta Italia sotto l'azione del gran caldo africano. Per quanto riguarda questo giovedì, poche variazioni nel tempo rispetto ai giorni scorsi. Avremo il dominio totale del sole e qualche rensamento in montagna durante il pomeriggio, però non ci aspettiamo fenomeni annessi. Le temperature stazio e un ulteriore lieve aumento, massime fino a 35 gradi nei settori interni, un paio di gradi meno lungo le coste, però qui avremo anche tanta umidità in più, quindi caldo molto più umido e affoso. Le minime stazionarie tra i 20 e i 26 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e a tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.